anche se non ce ne accorgiamo per tutta la nostra vita facciamo delle negoziazioni con le persone intorno a noi comprendere in modo razionale i principi della negoziazione può quindi essere molto utile oggi però parleremo solo della negoziazione in ambito commerciale che prende il nome di negoziazione dura in quanto ogni vantaggio è a scapito della controparte una negoziazione ha due componenti emotive e razionali in una trattativa condotta dalle emotività si possono commettere grossi errori per cui è necessario passare sempre ad una negoziazione trainata dalla razionalità ed è questo il motivo per cui è utile approfondire le tecniche di negoziazione l'argomento è vasto per cui in questa sede faremo solo un'introduzione le fasi di negoziazione sono tre c'è la preparazione all'incontro che è molto importante ci sono le manovre di consolidamento che sostanzialmente cercano di far aumentare il valore del nostro servizio prodotto e poi c'è il vero e proprio incontro che il confronto con le controparti nell'ambito della preparazione oltre ad aver ben chiaro quali sono i propri obiettivi e quali sono poi le caratteristiche della controparte quindi studiare la controparte è necessario preparare una trincea degli interessi vediamo nello specifico bisogna innanzitutto aver chiaro l'obiettivo principale e monetizzarlo poi bisogna ricercare gli interessi secondari un interesse secondario potrebbe potrebbe essere anche la pubblicizzazione della propria azienda ad esempio sul sito della controparte ad esempio e poi bisogna monetizzare tutti gli interessi secondari e bisogna dividerli in significativi e non ovvero quelli che sono sacrificabili e quelli invece importanti anche sei secondari bisogna poi sommare all'obiettivo principale gli obiettivi secondari significativi otterremo quindi la posizione desiderata che è il primo cancello della trincea infine poi bisogna sommare alla posizione desiderata anche gli obiettivi secondari sacrificabili cioè gli obiettivi che sostanzialmente possono avere un impatto sul proprio business ma che non vengono ritenuti fondamentali e la somma quindi di questi obiettivi sacrificabili con la posizione desiderata ci dà la posizione dichiarata cioè quello con cui accederemo all'incontro quindi una volta preparato questa trincea quindi una volta avuto ben chiaro qual è la posizione da dichiarare qual è la posizione che noi desideriamo e che non possiamo travalicare si può procedere all'incontro quali sono le regole fondamentali la cosa importante è fare domande perché di solito chi for chi fa le domande conduce il gioco inoltre per quanto possibile è buona norma cercare comunque di svalutare la proposta della controparte inoltre non bisogna avere mai fretta nel caso in cui la controparte voglia portare la negoziazione sul piano emotivo bisogna stare molto attenti perché come abbiamo detto prima una negoziazione sul piano emotivo può portarci all'errore quindi bisogna riportarle sul piano razionale e come fare innanzitutto bisogna riconoscere l'attacco quindi se la persona ad esempio cerca di muovere le corde emotive le nostre corde emotive bisogna riconoscere quello che sta facendo e schivarlo si può schivare ad esempio con una pausa con una battuta rispondendo a una telefonata una volta fatto questo bisogna rispondere all'attacco per esempio negando e ribaltando la situazione o una volta che si è risposti all'attacco bisogna poi ricondurla nel piano della trattativa razionale questo è appunto è molto importante per evitare appunto errori quindi per avere maggiori probabilità di successo in una negoziazione è consigliabile un approccio sistematico e razionale cioè lasciare al caso l'andamento della trattativa può portare a fare concessioni non necessarie e quindi a perdere soldi ciò soprattutto se dall'altra parte c'è una persona scaltra che tende a dispostare il tutto appunto sul piano emotivo e quindi farci indurre l'errore la 2c ha realizzato un breve videocorso sulla negoziazione di cui questo video è l'introduzione per chi fosse interessato o contattarci a info chiocciola a2c.it arrivederci ti è piaciuto questo video allora se non vuoi perdere i prossimi cerca su youtube a2c.it salerno e clicca su iscriviti alla prossima